Ciao a tutti, in questo video ve l'ho presentato il rituale di Erzuli Freda per attrarre l'amore. Erzuli Freda, come sappiamo, è il loa dell'amore, rappresenta la signora del fascino e della seduzione. È la bella tra le belle, nel sincretismo viene, diciamo, sincretizzata con la madre dolorosa. Erzuli Freda è anche lussuriosa e ha avuto flirt con tutti loa, praticamente. Come si effettua questo rituale per attrarre l'amore, questo rituale con Erzuli Freda? Allora, intanto vediamo gli ingredienti. È un rituale che serve per attrarre l'amore di una persona di stesso posto nuovo oppure per consolidare una relazione. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Nonché, ti ricordo, che sul canale è possibile abbonarsi, abbonandosi al canale potrai ottenere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E veniamo al tema. Qual è il rituale di Erzuli Freda per attrarre l'amore? Vediamo, innanzitutto, gli ingredienti. Gli ingredienti sono due candele bianche d'altare, una candela a forma di donna di colore rosa, una candela a forma di uomo di colore rosso, una candela astrologica per la donna, una candela astrologica per l'uomo, una candela a forma di cuore rosa. Poi serve l'incenso, l'olio di dedè per ungere le candele, la polvere di Erzuli, un panno d'altare rosa, un nastro rosa e una Bibbia. Allora, come si effettua? Allora, si allestisce l'altare, mettendo a sinistra si dispongono le candele delle donne, a destra si dispongono le candele dell'uomo, al centro si traccia con la polvere il vevè di Erzuli Freda e si deposita sempre al centro la candela rossa a forma di cuore e l'incensiere con i carboncini d'incenso. Dopodiché si accendono le candele con questa sequenza. Prima le candele d'altare, poi le candele delle donne, poi la candela del cuore. Dopodiché si butta un po' di incenso sui carboncini e si recita la preghiera di Legba per aprire la porta. La preghiera di Legba è Legba, Atibon, aprimi la porta, sia gloria di spiriti. Papa Legba, aprimi la porta affinché io possa passare. Quando farò ritorno saluterò Iloa. Voodoo Legba, aprimi la porta in modo che io possa penetrare. Quando tornerò saluterò Iloa. Questa è la preghiera di Legba per aprire la porta. Dopodiché, una volta che si è fatto questo, bisogna leggere, prendere la Bibbia e leggere i capitoli della Bibbia, il prologo, il primo capitolo della Bibbia, del Cantico dei Cantici. Una volta che si è letto il prologo, il primo capitolo del Cantico dei Cantici, si spengono tutte le candele, nella sequenza in cui si sono accese. Mi raccomando non soffiando le candele, ma utilizzando le dita. E tranne quelle bianche e quella forma di cuore al centro. Dopodiché si recita la richiesta a Erzuli, in questo modo. Mettressa Erzuli Freda ti chiedo umilmente e con fede di unire, si cita il nome di lei e si cita il nome di lui. Ascolta la mia preghiera, spargi su questa coppia la tua benedizione d'amore e rendili indispensabili l'uno all'altra reciprocamente. Unisci i loro cuori in un sentimento di affetto e di sentimento sincero, che nulla possa turbare. Ago è. Una volta che si è fatto, si è recitata questa preghiera, bisogna spegnere le candele bianche, successivamente quella a forma di cuore e battere tre volte le mani. Il secondo giorno va ripetuto tutto questo, nello stesso modo, soltanto che bisogna recitare il secondo, il secondo poema del Canto dei Cantici, il secondo capitolo del Canto dei Cantici. Il terzo giorno si deve procedere come nei giorni precedenti, soltanto che va letto il terzo, il quarto, il quinto capitolo e il prologo del Cantico dei Cantici. e vanno lasciate, le candele vanno lasciate consumare fino alla fine. Una volta che le candele sono consumate fino alla fine, quello che bisogna fare è raccogliere tutti i residui, diciamo, del rituale, avvolgerli nel panno rosa, chiuderlo e utilizzare il nastro rosa per fare un pacchetto, quindi chiudendolo completamente, e bisogna fare sette nodi al nastro rosa per chiudere il tutto. Una volta che si è fatto questo, bisogna portare il tutto ai piedi di un grosso albero all'interno di un parco e lasciarlo lì. Ecco, questo è come si effettua il rituale di Erzuli Freda per attrarre l'amore. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. E ti ricordo inoltre di iscriverti al canale attivando la campanella se non l'hai ancora fatto, perché in questo modo potrai ricevere le notifiche di tutti i video, di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live che faccio appunto per gli abbonati al canale. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!